Ciao a tutti, stiamo facendo una sosta per aver fatto un altro acquistino di finetti, l'ultimo, spero, credo, stiamo facendo un attimo una sosta per acquistare, per prelevare, nella mia spalla uno scotch della bellissima look di mattina, una bella giornata, fa caldo, cioè almeno io sento caldo, e niente, i cosplay ancora ci devono chiedere una foto, diciamo, come sempre poco riconosciuto, Goodwars non è molto famoso, però ci viacchiamo. Ok, e niente, abbiamo fatto qualche fotina, usano un po' di cosplay in più, qualche fila siamo riusciti a saltarla sempre di essere al superpotere, e niente, aspettiamo quando la vita finisce di prelevare, e andiamo dai nostri amici a Boku Show.